Il reportage evidenzia con delicato sentimento una storia di inclusione sociale coniugando il giornalismo civile all'impegno di una realtà attiva sul territorio a favore di giovani non vedenti e di povedenti. Con questa motivazione il reportage Wonder Radio, una radio ad occhi chiusi, ha vinto per la sezione tv la quinta edizione del premio giornalistico nazionale intitolato a Tommaso Francavilla, giornalista e commentatore politico scomparso prematuramente nel 2015. Il servizio, una coproduzione teleradio Padre Pio e Corallo e firmato dalla giornalista Paola Russo, racconta la storia di una web radio di Terlizzi, luogo di integrazione e socializzazione per persone cieche, ipovedenti e normovedenti che amano fare radio. I vincitori per la sezione carta stampata e testati online sono stati Lucia Jessica Iaia, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia e Maurizio Di Fazio per Vanity Fair. Per la prima volta questa edizione del premio ha visto la partecipazione del liceo Majorana la Terza di Putignano ad essere premiati per i loro elaborati due giovani studenti. Il premio è stato organizzato dall'Associazione Culturale La Piazza di Alberobello, editrice dell'omonimo periodico, con il patrocinio del Consiglio regionale della Puglia, dei comuni di Alberobello e di Castellanagrotte e la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti di Puglia.